Daniel! Oh, Patrick! Potremmo cenare insieme? Con piacere, così potrò finalmente presentarvi Emma. Non mi starai mica dicendo che verrà a cena da noi con la sua nuova compagna. Sei impazzito! Dopo che quel bastardo ha lasciato la mia migliore amica senza nessun rimorso! Buonasera. Piacere. Piacere. Non capisco come abbia potuto lasciare Laurence, una donna straordinaria, per una cozza di 25 anni. Beh, insomma, avercene di cozze così... Scusa, che cosa hai detto? Io? Che cosa hai detto? Niente. Non smette mai! Come? Non smette mai di parlare di voi! Sono terribilmente golosa. Ah, è golosa lei? Terribilmente. Apre la bocca. Che ci faccio con la bottiglia? Oh, merda! È orribile! Nascondiamoci da qualche parte, la vita è una. Una vita senza regole. Senza responsabilità. Solo puro divertimento. Sembrava un sogno. Ci sei? Sì, sì, scusatemi, certo. È una ragazza fantastica, vero? Eh sì, deve essere una bella botta di vita. Non puoi immaginare quanto. Sì, sì, invece me lo posso immaginare molto bene. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Buon. Sì. Sì. Grazie.